salve salve eccoci qui alla edizione numero 2 del tg simone ricordo il tg delle edizioni simone e anche del sottoscritto simone chiarelli siamo al 2 aprile e oggi faremo tante rubriche alcune che abbiamo già visto nella prima edizione vi invito a cercare sui canali social delle edizioni simone e del sottoscritto la numero 1 ma anche altre rubriche e molto più interattive della prima volta vedremo che avremo anche una novità una novità molto molto interessante intanto ringrazio tutti quelli che stanno seguendo che vogliono commentare io guardo la chat di youtube sul mio canale in modo tale da poter interagire allora partiamo subito con la primissima rubrica dopo aver ringraziato ovviamente le edizioni simone presenti su tutte le piattaforme social e in particolare sul canale youtube e vi ricordo il gruppo telegram siamo quasi a mille iscritti e questo ci consente di aggiornarvi di mandarvi le slide di mandarvi gli aggiornamenti di ricevere anche le indicazioni oggi abbiamo modificato la scaletta proprio in funzione anche di alcuni suggerimenti dell'ultimo minuto e li vedremo proprio a brevissimo vi invito a segnarvi questo indirizzo ed andare poi sul canale telegram che rimane durante tutta la settimana da un martedì all'altro partiamo però con una nuova rubrica i consigli per gli studenti o le studentesse fra l'altro chi di voi si chiede cosa significa quello asterisco che sostituisce la sva cosiddetta sva è per indicare in modo rispettoso del genere il genere maschile e femminile nei nomi che possono diciamo essere utilmente utilizzato in questo in questo modo allora vediamo il consiglio è abbastanza adattato fra l'altro ho iniziato a consigliarlo tre o quattro anni fa e sta a riscosso un buon successo soprattutto per quelli che sono idonei in graduatorie l'idoneo in graduatoria lo studente che non ha vinto non è fra i vincitori fra l'altro può avere anche dei vantaggi rispetto a non essere vincitore perché perché il vincitore che vince deve per forza prendere servizio nell'ente che ha bandito l'idoneo potrebbe essere chiamato da un altro ente magari vicino a casa magari più interessante e come può fare per mettere a frutto la sua idoneità ad esempio può iniziare a scrivere alle amministrazioni cara amministrazione sono mario rossi sono idoneo idonea nella graduatoria del concorso x magari allegate la graduatoria scrivo per comunicare la mia disponibilità perché possiate attingere molti lo hanno fatto molti mi hanno scritto dicendo grazie a questa modalità sono riuscito a farlo a chi scrivere io consiglio una bella telefonata cordiale magari chiedendo se c'è disponibilità evitate di mandare 100 email ad un ente che non è interessato e se vi danno la disponibilità l'ufficio personale la segreteria generale il sindaco sono ovviamente gli indirizzi email non serve la pecca siccome non avete diritto a essere attinti è inutile formalizzare e creare problemi diciamo di protocollo questo se volete è un suggerimento che può essere utile e che è stato utile a molti magari scrivetemi nei commenti se effettivamente l'avete utilizzato altra rubrica l'assai l'ultima oggi abbiamo due rubriche l'assai l'ultima perché ci sono due novità molto molto importanti la prima è proprio di oggi fresca fresca tant'è che l'ho trovata soltanto sul pagina web dello studio legale di veroli penso si pronunci così che sono gli avvocati che hanno difeso alcuni studenti nella procedura concorsuale di agenzia delle entrate per 530 funzionari l'agenzia delle entrate aveva adottato una linea interpretativa per la quale aveva ritenuto applicabile alla procedura in corso il taglia idonei fra altri taglia idonei nella versione intermedia alcuni idonei tagliati fuori dal taglia idonei hanno fatto ricorso e il tar oggi la sentenza è del 2 aprile non ce l'abbiamo quindi io vi leggo la notizia così come pubblicata non ho trovato ho trovato solo riscontri di conferme dell'esistenza di questa sentenza ma non ancora il testo poi quando l'avremo magari lo commentiamo il tar lazio ha riconosciuto la fondatezza della premessa della pretesa promossa dallo studio volta all'annullamento la gradatoria ade spi 530 funzionari nella parte in cui prevedono l'applicazione dell'istituto del taglia idonei del articolo 1 bis del decreto 44 il tar ha accolto il ricorso e riconosciuto l'applicazione del previgente regime che non prevedeva limitazioni numeriche concludendo che gli atti sono illegittimi laddove si precisa che nella gradatoria di merito sono presenti solo i candidati che hanno riportato all'esito della prova scritta un punteggio pari o superiore 21 trentesime che si collocano fino al 20 per cento e quindi diciamo poi facendo entrare tutti quanti poi vedremo gli effetti pratici di questa sentenza che interviene per la prima volta proprio su questa tematica molto interessante e molto delicata intanto mi dicono dai commenti che sul telegram ci sono le sentenze ottimo se me le volete indicare passare comunicare in una delle prossime dirette sicuramente lo commenterò prossima importante rubrica l'abbiamo già anticipata nella prima edizione qui andiamo nel dettaglio le soft skills sempre più richieste sempre più importanti soft skills che cosa sono sono quelle abilità trasversali quelle abilità non tecniche cognitive relazionali realizzative manageriali se volete questo è un ottimo testo dell'edizione simone competenze trasversali e soft skills nei concorsi di solito si è solito raggrupparli in dieci tipologie possono essere queste o altre ma non ci interessa ci interessa interagire preparatevi nei commenti perché perché normalmente le i cosiddetti quiz situazionali o test situazionali sono domande che vi pongono un caso concreto da risolvere non secondo le norme non secondo il diritto ma secondo le abilità che vedete qui elencate allora vi leggo il caso dopo un corso di formazione in materia di sicurezza ti accorgi che il tuo ufficio presenta alcune caratteristiche non a norma attenzione quando affrontate le soft skills domandatevi chi sono il tuo ufficio tu sei il capo ufficio a volte vi viene richiesto di impersonificarvi nel dipendente non nel responsabile cosa fai ti accorgi che il tuo ufficio presenta caratteristiche non norma cosa fai a ti ritagli del tempo per individuare i punti critici e segnalare la direzione b ignori quanto appreso in quanto non non ci non si sono mai verificate infortuni in ufficio ci ne discuti con i tuoi colleghi insieme mettete appunto un piano di azione di chi è di spiegazione al referente della sicurezza in ufficio non rispondete perché vi chiedo di indicarmi la risposta più sbagliata perché nei test istituzionali normalmente si indicano i due estremi la risposta più sbagliata a b c o d e poi la risposta più idonea non esiste esatto sbagliata le altre due sono intermedie spesso danno un punteggio anche quelle un punteggio positivo quindi qual è secondo voi la più sbagliata vediamo un po nelle vostre chat che cosa mi dite e qual è delle skills che non si applica attraverso l'indicazione di questa sbagliata vedo che stanno arrivando le indicazioni in questo momento siamo in diretta sui due canali youtube simone chiarelli edizioni simone e sul mio sulla mia diretta instagram ecco qua vedo che tutti pressoché tutti hanno indicato la b come sbagliatissima ignori quando trovate la parola ignori significa che avete rinunciato al problem solving il problem solving è forse la prima delle abilità trasversali e quindi quando vedete ignori quanto appreso in quanto non si sono verificate infortuni è la più sbagliata da non dare o meglio nei situazionali spesso vi vengono chieste tutte e due le opzioni adesso vi chiedo quali sono quelle intermedie quelle che non sono sbagliate ma quindi me ne dovete dire due le due intermedie ovviamente quella che rimane quella giusta potete anche scrivere la giusta è e poi si deduce l'intermedia vediamo un po che cosa mi dite ci soffermiamo un attimo su queste la prossima volta andremo più veloci oggi invece con questa rubrica che è nuova ci dedichiamo un po più di tempo intanto vedo forse la più giusta mi dicono è la dichia di spiegazione referente la troppo individualista non c'è interazione ottimo anche commentando io adesso vi mostro le insomma cioè ti ritagli del tempo per individuare i punti critici e segnalare comunque fai qualcosa ok non è pienamente sufficiente ma fai qualcosa chiedi spiegazioni comunque fai qualcosa ok ma non è sufficiente mentre la soluzione corretta nei discuti con i tuoi colleghi team working attenzione un altro aspetto importante nei situazionali è il lavoro di gruppo il responsabile non risolve i problemi alla squadra non dà il pesce da mangiare alla squadra insegna a pescare alla squadra le discuti con i tuoi colleghi e insieme mettete a punto un piano di azione questo si chiama team building team working è una skills fondamentale quindi questa è la risposta esatta la b è la più sbagliata per il problem solving le altre due non sono sbagliatissime ma non rappresentano la scelta ideale ne faremo altri di questi questo è preso da un manuale delle edizioni simone dal manuale che abbiamo visto con appunto la risposta più adeguata la risposta meno adeguata e il commento breve sintetico sul perché l'una e l'altra diciamo sono la più adatta o la meno adatta esercitatevi su questo tipo di materiali libri per lo studio consigli non solo per gli acquisti e potete anche poi non acquistarli ma sapere che ci sono e come vengono utilizzati questo per esempio è un testo dell'edizione simone elementi major il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione vedete dall'indice sintetico già da in copertina status giuridico economico del dipendente diritti e doveri codice di comportamento profili giurisdizionali quindi è una versione sintetica ok voi guardate sempre il numero di pagine 100 pagine adizione sintetica che è utile se la uso alla fine della preparazione non usate mai le versioni sintetiche per preparare io so bene il pubblico impiego magari l'ho studiato un annetto fa voglio un testo aggiornato che mi rafforzi la preparazione questa è un'ottima scelta non è la scelta ideale la scelta sintetica qui vi riporto per esempio un indice che attenzione potete usare come tracce come si usa un indice la disciplina pubblico impiego le chiavi di lettura provate a fare una traccia 20 minuti una traccia usando questo come se fosse un titolo che vi viene dato ad un concorso quindi usate gli indici dei libri fra l'altro li potete scaricare anche dal sito dell'edizione simone utilizzateli per fare le tracce e poi aiutatevi eventualmente con il manuale per confermarlo io ho preso da un altro manuale sempre sul pubblico impiego come vi dicevo l'altra volta vedete una paragrafo usando l'evidenziatore ora l'edizione simone a me sono sempre piaciute chi di voi mi segue lo sa che da ho iniziato a studiare ho vinto i miei concorsi con questi manuali perché già mi aiutavano con il grassetto e il corsivo vedete ci sono già dei test delle formule in grassetto così io ci metto anche l'evidenziatore a me piace evidenziare i testi sia telematici in questo caso ma anche soprattutto cartacei vedete le fonti del pubblico impiego allora la prima volta leggo tutto non salto niente poi la seconda volta mi concentro sulle parti che ho evidenziato e magari mi faccio degli appunti manuali o elettronici in cui mi ricordo che fondamentalmente devo ricordare i concetti codice civile legge sui rapporti di lavoro testo unico del pubblico impiego contrattualizzazione del lavoro pubblico questi sono i quattro concetti fondamentali che stanno dietro queste 20 righe che posso in gran parte saltare cioè alla fine della preparazione questa è la logica della sintesi poi magari vado alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nazionale integrativa i due concetti fondamentali in che rapporti stanno questi due livelli ricordo dalle prossime volte avremo una inviata speciale simona anzani che già realizza molte rubriche per noi e che ringrazio e che appunto produrrà dei materiali per le nostre dirette li vedremo la prossima volta adesso jolly e decaloghi anche in questo caso alla fine della preparazione alla fine della preparazione è opportuno avere sotto mano in un unico documento le dieci parole fondamentali che se mi viene fatto una domanda orale io devo dire se ne salto qualcuna perdo un punto ecco questo è un esempio di jolly e decaloghi del codice dei contratti pubblici ovviamente non posso sintetizzare 280 articoli in dieci punti però le parole che alla domanda mi parli del codice dei contratti pubblici io devo saper dire le soglie il soprasoglia il sottosoglia i principi perché il nuovo codice si basa su una disciplina per principi e soprattutto i primi tre i soggetti chi fa che cosa dall'anac al ruppa al dirigente al responsabile di fase alla commissione al seggio di gara pensate a tutti i soggetti che operano nel settore il ruolo del digitale per la prima volta tutto è informatizzato il ruolo della programmazione della progettazione che è stato modificato dal nuovo codice due livelli di progettazione dei lavori triennale per la programmazione dei servizi e delle forniture l'anac confermata ma non più come attore normativo l'espansione o l'esplosione dell'affidamento diretto le norme che favoriscono le piccole e medie imprese i criteri di selezione degli operatori economici e il partenariato pubblico privato con le relative concessioni quindi dieci cose rispetto le quali se ho una ottima preparazione io riesco a ricordandomele a fare un ottimo orale un ottimo scritto e saper dire molto di ciascuno di queste cose non studiate su decaloghi di altri fateli da voi non vi servono i decaloghi di altri quiz in diretta preparatevi adesso vi metto il sondaggio anzi riscrivete direttamente nella chat non serve il sondaggio andiamo più spediti rispetto all'altra volta la capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi attraverso un'attività avente le stesse caratteristiche di quella poste in essere dallo stato e di emanare atti aventi la stessa efficacia di quelli statali come si chiama autotutela autonomia autarchia inizia per aut ma quale di questi concetti è è all'inizio dei libri spesso le i concetti che sono all'inizio dei libri diritto amministrativo si tendono a sottovalutare ecco perché è importante sia i corsi che i libri farli almeno due volte forse anche tre volte ora qui si va per esclusione nel senso che io rileggo la domanda la capacità di amministrare i propri interessi amministrare i propri interessi probabilmente scarto l'autonomia ok amministrare vero c'è propri insomma ci sono diversi trabocchetti probabilmente però vediamo vediamo autarchia l'autonomia la capacità di lettere norme sulla propria organizzazione l'autotutela la capacità di annullare senza ricorrere al giudice gli atti che si adottano comunque privarli di efficacia l'autarchia invece è la capacità di curare i propri interessi adottando atti amministrativi gli enti autarchici adottano atti amministrativi questa è la definizione di autarchia che non viene dal nome autarchia non ci dice niente se non so la definizione ripassatela seconda domanda la facoltà ha riconosciuto alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti che sono scelti dagli stessi governati è detta autogoverno autarchia autonomia allora perché è importante fare i quiz commentati perché se autarchia è quella cosa di sopra autarchia non sarà quella cosa di sotto quindi la b la tolgo perché è la definizione di sopra quindi mi serve quando faccio i quiz farli commentati imparare bene e usarli magari per i successivi quiz quindi scartata autarchia intanto passo dal 33% al 50% di probabilità di indovinare la domanda ecco qua che stanno arrivando le risposte vediamo allora qual è la risposta esatta autogoverno attenzione la facoltà riconosciuta da alcuni enti pubblici per mezzo di governanti ricordatevi nei quiz c'è sempre una parola chiave che nella domanda richiama la risposta esatta in questo caso era governanti autogoverno quindi diciamo due quiz abbastanza semplici su nozioni elementari ma che vedendo le risposte che state dando qualcuno diciamo ovviamente le ha sbagliati perché ci sono dei trabocchetti rispetto ai quali come detto trovate sui manuali edizione simone che contengono quiz commentati la maggior parte dei manuali edizione simone ha quiz commentati sono quelli che vi consiglio di fare i quiz commentati vedete c'è la risposta più o meno sintetica in alcuni casi è più lunga in alcuni casi più breve l'importante è cogliere l'occasione del quiz per ripassare gli argomenti adesso adesso abbiamo un inviato speciale frutto di vile nepotismo da parte mia che ho sfruttato mio figlio che è esperto in ambito diciamo di logica matematica molto più di me per affrontare un altro tipo di quiz che sono i quiz appunto di logica e matematica che ogni tanto troviamo nei concorsi allora inviato speciale lancio il servizio che ha realizzato per noi sarà una rubrica che troverete sempre in questo tg salve dall'inviato alessandro carelli per la batteria logica e matematica per il servizio del tg simone oggi nella prima sessione di quiz affronteremo due quiz uno riguardante una sequenza logica e l'altro riguardante una tabella in cui bisogna applicare il ragionamento logico dunque iniziamo dal primo quiz in cui abbiamo una sequenza numerica 864 un numero incognito 24 e 4 e bisogna scegliere tra le 5 opzioni qual è il numero incognito da inserire questa come ho detto precedentemente è una sequenza logica di conseguenza bisogna capire cosa collega ogni numero della sequenza in questo caso si può vedere per esempio tra 24 e 4 in quanto 24 è uguale a 4 per 6 quindi è il sestupro di 4 se proviamo per esempio quindi a fare il sestupro di 24 otteniamo proprio la quarta opzione che è di perché 24 per 6 fa 144 dunque se facciamo la riprova 144 per 6 fa 864 quindi ogni numero partendo da destra è la sesta parte rispetto al numero precedente andiamo alla secondo quiz tabella con ragionamento logico per risolvere questi tipi di quiz bisogna solamente considerare le righe con scritto più perché è proprio in quelle righe che si applicherà la regola che lega i tre numeri appunto 42 2 84 quindi e 24 4 e 96 qui si può pensare subito a un prodotto perché 42 per 2 può essere uguale a 84 infatti lo è 24 per 4 uguale a 96 ed è una colonna più e invece per esempio 15 per 1 non fa 30 in quanto nella riga finale c'è scritto meno stessa cosa per 13 per 5 che non fa 60 dunque l'unica serie di risposte che soddisfa serie di numeri che soddisfa questi requisiti è 52 2 e 104 non 10 333 eccetera quindi la risposta corretta è la A dunque vi ringrazio per avermi seguito lascio la linea a simone sì io mi scuso dobbiamo organizzarci per il volume probabilmente un po basso ma comunque si intuiva l'importante la prossima volta lo miglioreremo per capire appunto la utilizzo di questo materiale che comunque attenzione anche se non avete nel vostro percorso di studi i quiz di logica matematica ricordatevi che il diritto è in gran parte logica e spesso anche matematica e esercitarsi io lo dico sempre può sembrare un paradosso esercitarsi con questi quiz attitudinali ma anche con il sudoku la settimana ritmistica vi aiuta tantissimo nella preparazione eccoli qua i due quiz che sono stati presentati da Alessandro inviato speciale che ringrazio e lo vedremo la prossima volta con un audio sicuramente perfezionato norme sentenze vediamo simona anzani che cosa ci ha realizzato consiglio di stato sentenza 1723 2024 il provvedimento che annulla in autotutela la nomina di un vincitore di concorso è legittima se il candidato ha espresso dichiarazioni mendaci nel modulo di domanda di partecipazione in particolare omessa dichiarazione di sentenza di condanna penale irrevocabile e falsa dichiarazione sullo svolgimento del servizio militare quindi attenzione oggi che si compilano moduli online semplicemente con un flag e con un click può essere pericoloso l'annullamento in autotutela è un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione non c'è valutazione discrezionale quindi ci interessa per il caso concreto ma ci interessa anche per confermare come l'annullamento per false dichiarazioni non comporta la dimostrazione della sussistenza di un interesse pubblico a differenza dell'annullamento in autotutela che avviene in altre fattispecie apro una parentesi proprio di la sai l'ultima lo vedremo verso il finale si sta prospettando una serie di modifiche normative importantissime su tanti testi normativi di qui alle prossime settimane fra cui uno proprio sull'autotutela scrivete nei commenti entro quanto si può fare l'annullamento d'ufficio entro che termine entro quanti mesi si può fare l'annullamento d'ufficio ecco a breve avremo una novità su questo termine intanto lo accenniamo nuovamente quiz in diretta preparatevi pronti attenti via allora quando un organo sindaco l'operato di un altro organo ai fini della prevenzione o riparazione e per salvaguardare gli interessi su cui chiamata vigilare siamo di fronte a quale delle seguenti relazioni organiche coordinamento direzione o controllo ricordo che sono quiz presi da manuali messi a disposizione dalle edizioni simone intanto vedo che mi state rispondendo nella chat riguardo ai mesi 12 mesi prima erano 18 fra un po saranno 6 probabilmente se passa la norma che vedremo alla fine alla fine di questo telegiornale ma andiamo avanti con il nostro quiz ecco qua stanno arrivando le risposte come si chiama quella relazione interorganica intanto a di là della risposta esatta che può essere utilissima vi invito ad un altro aspetto cosa vuol dire relazione interorganica e ricordatevi sempre che nel diritto se trovate un aggettivo vuol dire che esiste anche un qualcos'altro se nel diritto esistesse soltanto la parola relazione non avremo bisogno di aggiungere interorganica esiste interorganica perché c'è un altro tipo di relazione che è intersoggettiva relazione interorganica significa relazione fra organi cioè strutture che fanno parte dello stesso ente se sono due enti diversi si chiamano relazioni interorganiche sono simili ma non identiche ricordatevi usate sempre quiz per ragionare sopra le parole non serve rispondere bene a questa non vi capiterà mai questa in un concorso vi capiteranno cose simili se ci ho ragionato io con un quiz poi riuscirò a rispondere a decine di queste e la risposta esatta ovviamente è controllo perché perché nella domanda c'è sindaca l'operato vigilare chi è che sindaca giudica sindacare vuol dire giudicare giudica l'operato vigila ovviamente è molto prossimo alla parola controllo più che coordinamento che presuppone una equiparazione fra gli organi quale fra le seguenti non è una relazione interorganica a la presidenza b il controllo c il coordinamento vediamo che cosa mi dite quale fra le seguenti non è una relazione interorganica la presidenza il controllo o il coordinamento ovviamente in questo modo ripassato gran parte delle relazioni interorganiche perché so che sono il controllo il coordinamento che sono in tutte e due i quiz la presidenza forse se c'è ma in realtà non c'è perché la presidenza non è una relazione interorganica e infatti mi servono le risposte commentate che mi spiegano il controllo cioè il controllo fra organi diversi è la possibilità che un organo sindaco e l'operato la presidenza invece non è una relazione interorganica ma uno dei soggetti di un organo collegiale ha un potere di direttiva di propulsione di coordinazione all'interno dello stesso organo non fra organi ok presidenza non è fra organi è fra presidente e membri del pensate al presidente della commissione di concorso ecco perché non è una relazione interorganica latino e inglese una rubrica che spero possa incuriosire due parole di latino due parole di inglese che si usano ancora nel nostro diciamo sistema più o meno frequentemente ad substantiam ok si usa si usa di solito contrapposto all'altra parola latina ad probazione soprattutto nel diritto civile noi abbiamo delle forme che vengono richieste obbligatoriamente anche nel codice dei contratti pubblici nel diritto amministrativo ad esempio la forma scritta sappiamo che anche gli atti amministrativi non hanno una forma obbligata ma molto spesso il legislatore richiede una forma scritta allora si dice che quella forma è ad substantiam cioè se io adotto una determina di affidamento diretto a voce cioè dico all'operatore guarda hai vinto l'appalto questo non è un provvedimento amministrativo perché per le determini di affidamento è richiesta la forma scritta ad substantiam se il vigile mi dice di fermarmi allo stop e io non mi fermo ho violato un provvedimento amministrativo perché in quel caso la forma scritta non è ad substantiam poi ci sono casi in cui io posso stipulare un contratto anche oralmente ma per dimostrarlo in giudizio mi serve la carta ad probazione altra formula che si usa spesso nemo profeta in patria non riguarda tanto l'applicazione del diritto riguarda spesso qualche dipendente che lavora benissimo magari una pubblica amministrazione e che magari non viene valorizzato in quella pubblica amministrazione si suole dire nemo profeta in patria nessuno è profeta nel suo campo nel suo ambito lavorativo e questo a volte potrà capitarvi chi di voi sta puntando al posto fisso magari si potrà trovare a non essere valorizzato latino inglese foreclosure closure sales asta giudiziaria accuracy adeguatezza non sto a spiegare diciamo sono termini non frequentissimi ma se vi dovesse capitare possono essere utili in ambito giuridico l'intelligenza artificiale abituiamoci a usarla bene è uno strumento fondamentale che può farci perdere un sacco di tempo ma può esserci utile invece per lo studio vediamo allora come utilizzarla io per esempio uso per queste esercitazioni gemini di google ma poter usare chat gpt è indifferente io ho fatto una domanda ho detto sei esperto di diritto amministrativo cioè ho contestualizzato attenzione sei esperto di diritto amministrativo lo sto dicendo all'intelligenza artificiale perché a seconda di come gli dite si deve comportare cerca in un dizionario invece che in un altro quindi gli ho detto pensa di essere un esperto di diritto amministrativo elencami dieci differenze fra accesso documentale e accesso civico un domandone è all'orale penso la maggior parte di noi crollerebbe in tre secondi mi ha prodotto una serie di differenze vedete soggetti titolari del diritto nell'accesso documentale che ha un interesse diritto corretto attuale nell'accesso civico qualunque poi magari non è precisissimo mi dice qualunque cittadino non è vero perché la norma dice chiunque anche non cittadino quindi non è perfettamente corretto un'altra cosa importante usate l'intelligenza artificiale per correggerla con l'intelligenza naturale perché se riuscite a vedere gli errori dell'intelligenza artificiale così come potete vedere gli errori di qualche manuale dove magari ci sono delle cose che non vanno state facendo il salto di qualità accesso documentale sulla motivazione il richiedente deve motivare mentre nell'accesso civico esente la motivazione yes 3 l'oggetto del diritto nel documentale riguarda i documenti nell'accesso civico anche le informazioni ottimo le eccezioni al diritto i limiti all'accesso i termini di risposta che sono gli stessi per l'accesso documentale l'accesso civico 30 giorni ma una silenzio ricetto e l'altro non è a silenzio ricetto le modalità di esercizio che variano la tutela in caso di diniego le spese l'ambito di applicazione la natura del diritto l'intelligenza artificiale si è inventata queste dieci categorie prendendole da vario materiale ed è un ottimo strumento per soprattutto quando mettete a confronto e gli dite in quale contesto organizzare è gratuita ovviamente non dobbiamo prenderla come sostitutiva di un'ottima preparazione è integrativa io riesco a capire se è scritta bene vedere gli errori se ho chiara la preparazione su queste tematiche andiamo avanti e poi c'è una sintesi finale e qui vi ho messo il link assoluto per cui se lo ricliccate riottenete questo risultato risposte e quesiti sono risposte e quesiti che arrivano dagli studenti sulla community punto omnivis punto it i controlli a campione sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di affidamento diretto vanno effettuati mediante voi fascicolo virtuale dell'operatore economico no al momento no perché per il controllo a campione che sappiamo il nuovo codice consente di introdurre per gli affidamenti diretti sotto i 40 mila euro per i quali l'amministrazione si è dotata di un regolamento annuale di controllo a campione attenzione non si possono fare controllo a campione sugli affidamenti retti se non mi sono dato una regolamentazione non è detto che abbia la forma del regolamento può avere la forma della determina dirigenziale della direttiva del segretario quello che volete deve esserci una regolamentazione a monte che stabilisca le modalità di sorteggio a seguito delle quali poi l'amministrazione non può intervenire sul voi perché diciamo la procedura potrebbe arrivare dopo sei mesi dopo nove mesi a procedura chiusa al momento si usano i canali extra fascicolo dammi tre parole eccoci questa è una nuova rubrica chiedo sia chi è su instagram sia chi è su youtube di dirmi tre parole anche a caso ok solo tre parole non concetti diciamo lunghi per fare questa esercitazione cioè riuscire a collegare le tre parole come se si rispondesse all'orale perché è importante che io ve lo consiglio impariate a la trasversalità degli argomenti molto spesso noi studiamo per categorie verticali se prendete i libri dell'edizione simone giustamente sono organizzati per categorie verticali costituzionale amministrativo pubblico impiego appalti perché così che si insegna ma non è così che si impara così si insegna ma poi io devo essere capace di sapere che ci sono degli argomenti che non sono in quel capitolo ma che sono collegati ad altri o delle strutture mentali logiche che si applicano a vari istituti e allora questo esercizio può essere utile vedo che rita in diretta mi scrive vendita appalti regola la disciplina dei contratti pubblici prevede una regolamentazione di natura comunitaria poi recepita dall'ordinamento italiano che distingue gli appalti dalle concessioni dal partenariato pubblico privato queste norme queste regole che disciplinano questa materia servono alla pubblica amministrazione per realizzare fondamentalmente dei contratti passivi dei contratti nei quali l'amministrazione acquista dei lavori dei servizi o delle forniture acquista dei servizi o dei lavori in concessione ovviamente dal lato dell'operatore economico abbiamo la vendita di questi servizi che è regolamentata al fine di garantire la trasparenza la concorrenza ecco vendita appalti regola durato meno di due minuti erano abbastanza attinenti rettore trasparenza tracciabilità questa abbastanza semplice la normativa sull'università prevede che al vertice quale rappresentante dell'ente vi sia il rettore il rettore è il garante dell'attività sia didattica quindi educativa sia dell'attività organizzativa attraverso l'esercizio di una serie di poteri amministrativi che sono assoggettati alla disciplina sull'anticorruzione della trasparenza normativa sulla trasparenza che prevede la pubblicazione in amministrazione trasparente di la gran parte delle informazioni che riguardano il mondo universitario anche per quanto riguarda i contratti in particolare per quanto riguarda i contratti o comunque gli impegni di spesa è previsto un meccanismo di tracciabilità delle operazioni tracciabilità che si estende anche all'attività amministrativa per cui chiunque opera nel settore universitario deve garantire il percorso logico che ha portato all'emanazione di un provvedimento amministrativo rettore trasparenza tracciabilità si potrebbe andare avanti per ore vi ringrazio per i suggerimenti ogni telegiornale avremo la nostra triade ma usate magari quelle che stanno scrivendo in chat i partecipanti per farle anche voi prendendovi spunto andiamo ai concorsi pubblici c'è un blog di simone concorsi trovate su simone concorsi punto it l'indicazione quotidiana pressoché giornaliera dei concorsi che sono in uscita avete visto 137 posti nell'esercito tre bandi per 27 posti nel comune di ancona i termini di presentazione alla domanda al ministero dell'agricoltura ad esempio se abito lontano dal comune di ancona e non andrei mai a lavorare ad ancona non perché non è bella ma perché ho famiglia perché abito in sicilia e quindi non mi trasferirei mai è opportuno andare a provare il concorso sì per quello che vi ho detto all'inizio perché perché se io lo vinco devo andare a lavorare lì o rinunciare ma se sono idoneo posso chiedere al comune accanto a casa mia in sicilia di attingere a quella gradatoria poiché è improbabile che in quella gradatoria ci siano altri siciliani o ce ne saranno molti meno statisticamente è improbabile diciamo il 90 per cento delle persone che partecipano a un zona nel circondario del di dove viene bandito il concorso allora guardate anche se arrivo ennesimo in gradatoria arrivo centocinquantesimo e c'è cento persone davanti a me è probabile che io prenda il posto perché se il comune della sicilia aderisce a quella gradatoria e deve chiedere ovviamente a chi è davanti a me se vuol prendere il posto quasi nessuno di ancona vorrà andare in sicilia vorrà rimanere in quella gradatoria ecco perché consiglio se avete la possibilità andate a fare i concorsi anche lontani anzi paradossalmente il più lontano possibile e cercate di non vincere mettete qualche risposta sbagliata questo no concorso nelle aziende sanitarie due bandi per 64 infermieri os 60 posti per infermieri 90 posti per infermieri notate tutti infermieri come mai perché i concorsi soprattutto a livello statale regionale si sbloccano quasi contemporaneamente perché sono frutto di provvedimenti di autorizzazione all'assunzione che non valgono per gli enti locali voi troverete quasi tutti i giorni il comunello piccolo il comune medio il comune grande che bandiscono concorsi perché non sono legati nella loro programmazione mentre stato ministeri o enti pubblici e anche le regioni molto spesso sono legati da atti di autorizzazione alla assunzione quindi al bandire i concorsi questo può essere un vantaggio uno svantaggio il vantaggio qual è che se mi preparo in materia sanitaria ho una batteria di concorsi da fare quasi contemporaneamente seguiteli quotidianamente ovviamente su impa.gov.it che è il sito ufficiale dove vengono pubblicati i concorsi ma anche sui siti come questo il blog di simone concorsi.it risposte ai quesiti ve l'ho già detto controllo a campione sulle dichiarazioni adesso vi invito andare a cercare gli atti con i quali i comuni hanno istituito i controlli a campione quindi non è importante soltanto diciamo capire la risposta che i controlli sotto i 40.000 euro si fanno con un meccanismo di sorteggio eccetera eccetera ma se voi andate su google e scrivete controlli campione 36 barra 2023 appalti troverete diverse e delibera troverete diverse amministrazioni che hanno approvato in queste settimane fra l'altro anche la mia amministrazione hanno approvato diversi provvedimenti per istituire i controlli a campione questo può essere un utile strumento guardare gli atti amministrativi è importante quanto anzi di più che imparare soltanto la teoria. Grazie a Simona per nuova rubrica norme e sentenze consiglio di stato è un po' settoriale però ci interessa per un concetto la concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte con il divieto dalle 7 alle 19 è contrario al principio di personalità allora noi abbiamo avuto una giurisprudenza in materia di videogiochi di sale scommesse che consentiva ai comuni per contrasto alla ludopatia di prevedere dei vincoli vincoli di distanze 500 metri da luoghi sensibili vincoli di orari ma questo consiglio di stato dice non si può esagerare guardate il principio di proporzionalità è un principio di derivazione comunitaria che abbiamo importato nel nostro ordinamento che c'era ma era diciamo latente e che adesso vedete acquisisce una portata enorme abbiamo esagerato non puoi impedire un operatore economico che svolge la sua attività perché perché non è in questo modo che si combatte la ludopatia non è lo strumento adeguato questo divieto quasi assoluto di svolgere l'attività quiz in diretta preparatevi altra batteria di quiz un solo quiz che dice quale fra le seguenti è l'unica opzione corretta a gli interessi semplici sono quegli interessi non qualificati né differenziati a che la pia osservi i doveri giuridici posti a suo carico ed a vantaggio della collettività mentre la leggo domandatevi subito è giusta o c'è un errore in qualche parola b gli interessi semplici ricevono sia tutela amministrativa che giurisdizionale c gli interessi semplici si sostanziano nella pretesa che la pia nell'esercizio del suo potere discrezionale si attenga che riteri di opportunità e convenienza che afferiscono al cosiddetto merito amministrativo e che sono tutelati dalle norme non giuridiche di azione le cosiddette norme di buona amministrazione essi ricevono tutela solo a livello amministrativo allora vediamo quali sono le vostre risposte soprattutto se avete trovato nelle risposte la parolina che rende sbagliata la risposta vi ricordo è molto difficile cercare la risposta esatta perché anche se siete bravissimi a meno che non sia una domanda banale non potrete mai sapere se quella formulazione è pienamente corretta è molto più facile trovare gli errori perché spesso sono una sola parola l'errore ecco che stanno arrivando le risposte sia su instagram che su youtube vediamole come si stava ragionando la doveri giuridici ok se ci sono doveri giuridici non ci sono interessi semplici al limite c'è l'interesse legittimo se sono doveri giuridici ecco perché la a è sbagliata per quella parola giuridico mentre la b è sbagliata per il giurisdizionale perché perché se io posso portare in giudizio l'amministrazione l'interesse non può essere semplice l'interesse semplice è quello che non è tutelato dal giudice non è tutelato dal diritto è tutelato dall'amministrazione se lo prende in considerazione quindi è la pretesa che l'amministrazione nel merito gestisca bene il proprio potere ma io sono vittima fra virgolette della scelta dell'amministrazione quindi al limite è tutelata a livello amministrativo cosa vuol dire la partecipazione al procedimento amministrativo eventualmente eventualmente anche la possibilità dei ricorsi amministrativi questo è il concetto di interesse semplice utile occasione per ripassarlo ed ecco la risposta corretta ed ecco il commento dal manuale dell'edizione simone l'interesse semplice sostanza della pretesa nell'esercizio del potere discrezionale si attenga criteri di opportunità e convenienza che afferiscono al merito amministrativo e che sono tutelati dalle norme non giuridiche di azione le cosiddette norme di buona amministrazione quindi tutela solo a livello amministrativo possono essere fatti valeri soli con i ricorsi gerarchici quindi il ricorso amministrativo ok sono interessi si chiamano anche amministrativamente protetti allora vedete l'importanza del commento al quiz perché se guardo solo il quiz e vado avanti cerco di imparare a memoria un quiz se io invece vado a vedere il commento scopro una nozione in più interesse amministrativamente protetto gli app ok gli app gli acronimi gli acronimi sono utilissimi per imparare a studiare gli app solo nei casi tassativamente indicati la legge il privato può agire in giudizio per la tutela di tali interessi eccependo vizi di merito ma sono casi veramente eccezionali che non fanno la differenza intanto ringrazio ringrazio tantissimo quelli che stanno già commentando qualcuno suggerisce ed è un ottimo suggerimento se proprio non sapete rispondere ricordando la regola che do sempre io si risponde sempre a tutti i quiz perché si va per vincere non per classificarsi perché classificati può non essere utile nel dubbio se non ho altri criteri se non sono riuscito a individuare le paroline magiche metto la più lunga non è frequentissimo ma un 80 per cento delle volte è la risposta corretta i più visti è una nuova rubrica che iniziamo questo tg allora durante il tg non avremo sempre tutte le rubriche avremo sicuramente quella dei quiz in diretta quella dei libri forse le soft skills ma i più visti è importante perché perché se un video fra quelli che produco è visto da tanti vuol dire che molti lo suggeriscono probabilmente è stato di interesse o è stato utile per la preparazione allora è bene anche guardare il numero di views io spesso quando faccio le dirette dico come dico ora mettete like perché se mettete like capisco quali sono quelli più graditi qual è la modalità più efficace di esposizione sono i cosiddetti customer satisfaction feedback chiamiamoli come vogliamo importante usare i termini inglesi per riconoscerli allora vediamo quali sono i più visti uno fra i più visti recentemente è il decreto legge 2 marzo 2004 numero 19 ulteriore disposizione urgenti per il pnrr perché importante perché intanto contiene alcune disposizioni anche in materia di appalti ma sono i jolly cioè quando voi andate concorsi e portate un decreto legge appena uscito vi assicuro che la commissione non se lo aspetta e allora se seguite il telegiornale se seguite le news se seguite le la rassegna giuridica siete in grado di portare jolly a al vostro a vostro vantaggio l'altro questo è il più seguito in assoluto mi sembra abbia fatto 120 mila views una cosa di questo genere è la lezione che ho fatto per il comune di genova ormai mi sembra tre anni fa forse anche di più e che è disponibile gratuitamente sul mio canale youtube a quell'indirizzo che vedete in basso lezione aperta sul testo unico degli enti locali sono più di tre ore dove commento il testo unico degli enti locali e diciamo se volete non l'avete ancora vista o se la volete comunque socializzare con altri fatene buon frutto anche le prossime volte le citeremo adesso adesso l'ultima news della giornata che però ci apre uno scenario di qui ai prossimi due tre mesi penso che sarà il tempo entro il quale verrà approvato il provvedimento di solito questi provvedimenti si approvano a luglio per ragioni tecniche che non vi sto a raccontare se voi guardate i testi normativi vedrete che la maggior parte dei testi più difficili più complessi i testi unici i codici hanno come datazione o luglio dicembre ok e un giorno poi nel tg spiegheremo anche queste tecniche parlamentari o governative diciamo di approvazione la sei l'ultima di che cosa parliamo parliamo del disegno di legge semplificazione attenzione non è un decreto legge a volte i giornalisti quando fanno i commenti parlano di decreto legge no disegno di legge cosa vuol dire vuol dire che è una proposta di legge presentata dal governo che va in parlamento in parlamento per diventare legge deve essere approvata dalla camera dal senato nello stesso testo se ci sono emendamenti torna la camera finché navette si approva nello stesso testo diventerà legge mediamente un disegno di legge al netto del di quello del bilancio che ha la fiducia è un iter semplificato ci vogliono due tre mesi se va tutto bene quindi è ipotizzabile che entro l'estate arrivi questo pacchetto di semplificazione attenzione è il primo perché perché arriverà senz'altro perché il governo anche quello precedente diciamo i governi precedenti hanno inserito nel pnrr negli obiettivi del pnrr non soltanto fare il ponte sullo stretto realizzare opere pubbliche finanziare scuole ma fare riforme amministrative perché perché sono a costo zero ok un disegno di legge non costa nulla e ha previsto 600 600 procedure semplificate entro il 2026 queste qui sono le prime 200 quindi è ipotizzabile che avremo a luglio la butto là giugno luglio il disegno di legge semplificazioni con le prime 200 procedure 2025 idem altre 200 procedure 2026 altre 200 procedure fra cui quella famosa che vi ho detto della riduzione del termine per l'annullamento in autotela a sei mesi ve l'anticipo perché usatela come jolly non è norma non è norma ma volete mettere all'orale se dite alla commissione che è in procinto di approvazione questi io li chiamo i super jolly cioè quelle nozioni che neanche la commissione di concorso sapeva glielo state dicendo voi per la prima volta vi metto l'indice perché il disegno di legge già sta circolando io non amo fare i video commenti sui disegni di legge che non siano certi questo deve essere deve ancora andare al primo ramo del parlamento quindi verrà modificato in vari aspetti però probabilmente un piccolo commento di massima per capire su cosa si interviene lo farò qui vi ho messo l'indice perché vedete si spazia da misure di semplificazione in valore delle attività economiche su app sportello per le attività produttive semplificazioni in materia di autotutela i sei mesi famosi semplificazioni di interscambio di pallet vedete anche norme molto particolari in materia di turismo semplificazioni sulla professione di guida alpina navigazione imbarco e sbarco comandante in luogo dove non si trovi l'armatore rilascio del nulla osta al lavoro in materia di rifiuti in materia di di permesso di costruire immobili vincolati fra le altre cose aperta parentesi dovrebbe andare avanti il percorso di riforma del testo unico dell'edilizia è probabile che parta quindi questa è forse un'anticipazione semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati ok non parliamo di condono diciamo parliamo di semplificazione in materia di immobili vincolati e tante altre forme di semplificazione per ora vediamo soltanto i titoli poi vedremo il dettaglio vi faccio presente che ci sono modifiche anche al codice dei contratti pubblici vedete l'articolo 28 modifica la disciplina sul corpimento rifiuti in discarica di cui al decreto 36 del 2003 e scusate questo non riguarda i rifiuti ma c'è un'altra disposizione che riguarda i rifiuti 36 del 2023 vi ricordo prima di chiudere che intanto il tg normalmente durerà un'oretta circa un po meno un po di più del di questa ora che ce la diamo come traguardo il gruppo telegram è sufficiente che scriviate t.me slash tg simone concorsi e entrate nel gruppo e riceverete tutti gli aggiornamenti queste slide i link ai video tutto e ovviamente quanto potrà essere oggetto di approfondimento ad esempio se vogliamo a continuare a discutere del dammi tre parole e quant'altro è possibile scaricare le slide di ogni diretta sì sul gruppo telegram io appena finisce la diretta pubblico le slide che sto proiettando quindi le trovate da scaricare scrivete anche se vi è piaciuto nel gruppo telegram lasciate i vostri commenti ultime annotazioni amo chiudere questa rubrica con un post che riguarda una frase motivazionale a volte sono un po stucchevole a volte sono un po noiose quindi vanno prese con le molle nel senso che non si vincono i concorsi motivandosi certamente se vado a correre 100 metri e già io dico no ma tanto lo perdo ma tanto vado contro gli usa in bolt no io se dovessi andare a correre 100 metri vado a correre sapendo che se lui corre normalmente perdo magari inciampa magari gli si slaccia la scarpa e posso anche vincere ok bene vediamo allora questa frase motivazionale l'ho prese una delle tante semplicemente non c'è alternativa al duro lavoro quando si tratta di raggiungere successo qualunque esso sia che il vostro successo sia lavorativo che vostro successo sia sentimentale che vostro successo sia il concorso pubblico non cercate scorciatoie tutti quelli che mi scrivono dicendo ma ce li avrebbe gli appunti riassunti di ma non esistono le scorciatoie ma se si potesse fare la stessa cosa con gli appunti gli altri sono scemi a farsi ore e ore di formazione invece che farsi gli appunti non esistono le scorciatoie al successo si può avere fortuna nella vita sempre ci mancherebbe altro ma se punto sulla fortuna non mi venite a cercare non è quello che si cerca di far passare con il tg con i video con i commenti con la noia di leggersi il decreto sulle semplificazioni le sentenze e quant'altro quindi non c'è alternativa al duro lavoro che si tratti di svegliarsi alle quattro che si tratti di andare a dormire a mezzanotte di leggersi dei libri o di studiarsi del materiale Heather Bress penso si pronunci così ha formulato questa massima allora io ringrazio tutti quanti noi ci vediamo martedì prossimo stessi canali stessa ora nuovamente ringrazio le edizioni simone per avermi dato la possibilità di gestire anche con completa assoluta autonomia quella che io amo questa edizione il 9 aprile alle 20 e 30 e poi per chi vuole il 10 ci vediamo fisicamente a bollate per il Chiarelli in turno arrivederci alla prossima e adesso sigla finale per tutti quanti per il Chiarelli in turno arrivederci alla prossima e adesso vi faccio